E' ormai noto che la perda di peso nelle persone con un tumore non vada mai sottovalutata. Prima ancora di iniziare le terapie oncologiche, oltre 6 pazienti su 10 hanno perso peso e sono a rischio di malnutrizione. Questa condizione si traduce in più probabilità di complicanze chirurgiche, minore efficacia delle terapie, maggiore tossicità e peggiore la qualità della vita dei pazienti. Ne abbiamo parlato con il dottor Riccardo Caccialanza, che abbiamo incontrato a Milano in occasione dell'incontro stampa per il lancio della campagna Nutrizione in Oncologia, istruzione per un uso responsabile. Quando parliamo di malnutrizione in ambito oncologico, cosa intendiamo esattamente? Intendiamo una condizione patologica caratterizzata dalla perdita di peso, di muscolo e dal fatto che i pazienti non riescono più ad alimentarsi in maniera corretta. Questa condizione è molto frequente in oncologia e, come sappiamo, ha degli impatti estremamente negativi sui pazienti. Qual è l'impatto della malnutrizione sui pazienti oncologici? La condizione di malnutrizione è associata al peggioramento della tolleranza alle terapie, maggiori complicanze post-operatorie che si traducono anche in un aumento dei tempi di degenza, un aumento incredibile e esorbitante dei costi sanitari, ma non da ultimi un peggioramento della prognosi e della qualità di vita dei pazienti. Quali sono i principali interventi da mettere in atto perché i pazienti abbiano un'alimentazione adeguata? Il primo intervento si chiama counseling nutrizionale. È una vera e propria presa in carico in cui il dietista col paziente cerca di attuare delle strategie per migliorare la possibilità di alimentarsi in maniera adeguata dal punto di vista calorico e proteico. Non è una prescrizione dietetica, non è un elenco di alimenti che devono essere evitati o assunti, ma è proprio lavorare con il paziente per cercare di migliorare gli intake alimentari dello stesso. Quando questo non è sufficiente, nella maniera più precoce possibile, bisogna supplementare il paziente, innanzitutto con supplementi orali e in seconda istanza passare a un supporto di nutrizione artificiale. Qual è il contributo degli specialisti e come possono collaborare pazienti e familiari? Gli specialisti di nutrizione clinica hanno un ruolo chiave perché sono i prescrittori, sono le figure cliniche di riferimento che hanno la diagnosi della malnutrizione e l'incarico di prescrivere in maniera adeguata, appropriata anche dal punto di vista della tempistica, il supporto nutrizionale. Hanno anche un ruolo di coordinamento fondamentale, ricordiamo che la malnutrizione è trasversale a tantissime patologie e a tantissime condizioni, in primis quelle oncologiche. Quindi bisogna collaborare a livello di team multidisciplinari in maniera reale e concreta e quindi il ruolo dello specialista è fondamentale per mettere in moto e coordinare tutto ciò. Dottor Caccialanza, nel percorso di cura i bisogni cambiano secondo le condizioni del paziente. Quali sono le azioni che vengono messi in atto per seguire il paziente al meglio? La prima cosa è la presa in carico, quindi il paziente deve essere agganciato a un team nutrizionale sin dalla diagnosi, deve avere dei riferimenti chiari che devono essere normati attraverso dei percorsi, dei protocolli e questo permette di mettere in moto tutto quello che si chiama poi follow up nutrizionale, che vuol dire seguire il paziente durante tutto l'iter terapeutico. Questa è la prima cosa che bisogna fare, il paziente deve avere dei riferimenti chiari e questi riferimenti devono essere normati a livello di tutti gli ospedali che hanno in cura i pazienti oncologici.